Come voleva si dimostrare, i nomi dei cinque deputati che hanno preso il bonus IVA non sono usciti e loro pensano ancora di farla franca. Allora io penso due o tre cosette. La prima, chi prende un contributo pubblico sta prendendo soldi della comunità, cioè soldi che la comunità mette a disposizione in un momento particolarissimo. Quindi i contributi pubblici sono soldi pubblici. Pertanto chi percepisce dei soldi pubblici sotto forma di contributi non può farsi schermo dietro la privacy. Ha maggior ragione un parlamentare o un amministratore pubblico. Quindi siccome si parla di cinque deputati e di qualcosa come oltre duemila amministratori locali dalle regioni ai comuni, è obbligatorio far uscire quei nomi. Quindi interrogazione e risposta scritta al ministro Catalfo, al ministro Gualtieri, in cui si domanda di conoscere i nomi almeno dei cinque deputati e poi a seguire di tutti questi amministratori pubblici che hanno chiesto e ottenuto il bonus IVA, cioè contributi pubblici. Lo farò immediatamente. In secondo luogo, se io fossi il segretario della Lega, del Movimento 5 Stelle o di Italia Viva, pretenderei dal mio capogruppo una lettera scritta da tutti i deputati, che la consegneranno al capogruppo, una lettera scritta in cui si dice, si dichiara ufficialmente sotto giuramento che non hanno né chiesto né ottenuto soldi pubblici. bonus IVA, in modo che in caso di dichiarazione mendace, falsa, bugiarda, tu te ne vai. Quanto meno viene allontanato dal gruppo e poi si chiedono le dimissioni. E tutto il popolo chiederà delle dimissioni di questa gente che è avidamente meschina o meschinamente avida, scegliete voi. Ma non è possibile pensare di utilizzare le norme sulla privacy per farla franca. Ma non è possibile, ripeto, intanto perché è un segno di rispetto verso partite IVA che veramente non hanno avuto nulla. E non me ne frega sapere che adesso la norma era maglie larghe, è stata scritta male. Non mi interessa, non mi voglio neanche dedicare cinque secondi del mio pensiero a come riscrivere questa norma. Adesso, adesso io voglio sapere se un amministratore pubblico, se un parlamentare della Repubblica è talmente meschino, è talmente avido da prendere ciò che è stato pensato per gli altri, non certo per i parlamentari. Dopodiché, dopo che sono usciti questi nomi, sicuramente si deve riguardare la norma. Perché non è possibile non mettere dei paletti. Ma io per prima cosa voglio sapere se il Parlamento o se le regioni, i comuni, sono composti, in nome della gestione della cosa pubblica, sono composti da persone per bene. Questo lo pretendo, perché io non voglio averli, non voglio sedermi accanto a persone che riescono in nome dell'avidità di questi soldi, così, che non riescono neanche a pensare in maniera altruista. Ma non è un pensare altruista perché siamo buoni, belli. No, perché sei un parlamentare e quando tu sei un parlamentare, tu per definizione, per mandato, devi pensare agli altri. Non puoi pensare a te stesso. Infatti noi siamo pagati, ben pagati, per pensare al bene collettivo, al bene della comunità. Invece questi avidi maledetti pensano, pensano, di poterla farla franca perché c'è la privacy. In un paese dove ci si sputtana ogni 30 secondi, in cui si sa tutto di tutti. Allora, col cazzo che ti do la privacy, ok? Col cazzo che ti do la privacy. Non la meriti la privacy, perché privacy the key. Sono soldi pubblici quelli che ti stai prendendo. Allora, interrogazione urgente al ministro Catalfo e al ministro Gualtieri, perché il presidente dell'Inps, parentesi, nominato dalla politica, chiusa parentesi, deve darci i nomi dei cinque deputati e di tutti i duemila amministratori pubblici che stanno prendendo i soldi del bonus, hanno chiesto e stanno prendendo i soldi del bonus, ok? Quando poi ci sono un sacco di persone che ancora non l'hanno percepito, quel bonus lì, ok? Poi, dichiarazione scritta dei deputati della Lega, del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva, data consegnata al capogruppo, alla Camera dei Deputati, in cui si dichiara, ok, di non avere né chiesto né percepito quei soldi, in modo che vediamo se riescono a essere bugiardi anche lì. Dopodiché, ve ne andate a casa. Ciao a tutti.